Benvenuti a questa nuova puntata di Cose a caso. Oggi parleremo di relazioni. Fin dall'antichità l'uomo ha sempre ritenuto opportuno avere relazioni con gli altri. L'opportunità nasce più che altro da un bisogno, dalla necessità di assolvere a... ...roba e da fare. Si evince molto presto, di fatti nell'antichità, che stare in un gruppo di persone sia più utile, più vantaggioso e da volte necessario. È più facile difendersi dagli animali, è più facile fare le cose, è più facile trasportare un cinghiale dopo che lo sia ucciso. Perché anche se tu riuscissi a uccidere da solo un cinghiale e a portarlo da solo nella tua caverna... ...poi ti voglio vedere a mangiarlo tutto senza aver ancora inventato il frigorifero ed altri metodi di conservazione. Nella società moderna, però, queste necessità di uccidere cinghiali sarebbero anche inutili. Basti vedere come nei supermercati abbiano iniziato a fare le monoporzioni. Fondamentalmente perché col tempo si è poi visto che relazionarsi è una rottura di palle. Le persone però continuano a farlo per quella roba che si dice di solito che l'uomo è un animale sociale. Relazionandosi con gli altri, l'uomo riesce a rivedere se stesso, a costruire la propria storia e a conoscersi meglio. Perché le cose che vede all'esterno gli fanno... ...e da specchio e impari di più. E' di fatti attraverso gli altri, attraverso le cose, attraverso le persone, attraverso le relazioni che noi possiamo comprendere meglio il mondo. E' attraverso il buio che riusciamo ad apprezzare la luce, attraverso il freddo che apprezziamo il calore, attraverso la pessima cucina di un tuo amico che apprezzi i due spaghetti che ti sai fare da solo. Ed è così che le relazioni con gli altri diventano dunque il tavernello della nostra esistenza, proiettato verso il barolo invecchiato. Stare assieme agli altri è dunque utile, è dunque divertente, è dunque necessario per continuare a vivere anche salubre. Perché insomma, stare da soli ci si rompe le palle. E' però vero che nella nostra società ormai possiamo anche scegliere se stare da soli o se stare con gli altri. Magari stiamo con gli altri il meno possibile, che poi tanto si fanno sempre le stesse cose, no? Sigla.